Musica Eccoci qui ben ritrovati dopo la fascia pubblicitaria, adesso parleremo di come prenderci cura del nostro sorriso perché sono in compagnia del dottor Corrado Palmas, esperto in riabilitazioni estreme della bocca e fondatore dell'istituto riabilitazioni estreme. Grazie dell'invito. Allora abbiamo con noi il nostro dentista sardo all'estero, così ti definisci, già ne avevamo parlato qualche puntata fa perché eri stato già nostro ospite e siccome la tua rubrica su come prendersi cura del sorriso è piaciuta tantissimo ti abbiamo rinvitato e abbiamo deciso questa volta di parlare di denti fissi, questa tematica un po' particolare e allora io ti chiedo subito, è possibile mettere dei denti fissi su impianti dentali anche nei pazienti che hanno perso tutti i denti e si trovano quindi senza osso? Certamente è possibile, ci sono pochi casi in cui questo non è possibile farlo e sono dei casi specifici in cui i pazienti prendono dei farmaci in particolare i farmaci bifosfonati per l'osteoporosi dove bisogna fare un po' di attenzione però la carenza di osso, sicuramente chi soffre di questo problema ovvero la mancanza di denti sarà stato dal dentista il dentista gli avrà detto guarda non c'è più osso in questi casi e in casi anche più estremi in cui l'osso è completamente riassorbito su tutta la bocca esistono oggi delle sistematiche di impianti dentali speciali customizzati, fatti su misura come se fosse un abito fatto su misura che si chiamano impianti sottoperistei o impianti non convenzionali sono una particolare categoria di impianti che ci consente di rimettere i denti fissi anche a questa sfortunata categoria di pazienti che per varie vicissitudini, errori medici oppure parodontite quella che un tempo si chiamava piorrea in stati avanzati ha perduto completamente l'osso o pazienti che hanno subito gravi incidenti stradali per esempio Ecco tu mi hai detto che c'è sempre una soluzione a tutto, no? anche ai casi peggiori, ma ci sono proprio dei casi in cui proprio non si può fare nulla? Allora in genere io dico sempre questo se qualcuno ti ha detto che non si può fare nulla probabilmente non ti sei rivolta a uno specialista quando tu ti rivolgi a uno specialista lo specialista in quella problematica ha sempre una soluzione ci sono rarissimi, ma veramente rarissimi casi in cui non si può fare nulla e ti posso dare un esempio nella carriera mia in cui ho curato più di 8.000 pazienti con la mia equipe tra Moldavia e Romania forse sono stati 2-3 su 8.000 i pazienti che ho fatto tornare a casa senza i denti fissi Ecco tu hai anche scritto un libro mi dicevi nella scorsa puntata e all'interno parli di diverse tematiche e una di queste è proprio come avere dei denti fissi belli senza spendere tutti i soldi in chirurgia Questo è un bel tema perché c'è spesso da guardare non solamente agli impianti da mettere in bocca a un paziente ma anche ai denti da mettere in bocca al paziente capita spesso che si vada da un professionista e la discussione alla fine si riduca al numero degli impianti che vanno messi nella bocca 4-6 impianti dentali sempre meno sono i colleghi che parlano dei denti della qualità dei denti della tipologia di materiali che devono essere utilizzati e fate attenzione io faccio l'esempio quando ci si riduce a parlare solamente del numero di impianti della marca degli impianti è come parlare del motore dell'automobile performante tanti cavalli una Ferrari con 600 cavalli e poi mettergli delle ruote di legno le ruote pure sono importanti quanto al motore i denti sono un po' come le ruote dell'auto sono quella parte che noi dobbiamo simulare che permette al paziente di masticare di mangiare il cibo negli anni e nei decenni a venire oltre che rapportarsi con le persone dunque più attenzione sempre di più va apposta non solo sulla parte chirurgica ma anche sulla protesi ecco un'altra tematica diciamo curiosa all'interno del tuo scritto è che ci sono diciamo dei medici diciamo così che spacciano come definitivi dei denti che in realtà sono provvisori ma com'è possibile questa cosa? guarda questa è una distorsione della comunicazione quando prende una strada troppo pubblicitaria allora si fa passare il messaggio che ti metto i denti fissi in 24 ore non specificando che quelli sono dei denti provvisori è un po' come dire ho una frattura alla gamba mi mettono il gesso col gesso ti faccio tornare a camminare in 30 minuti sì ma poi la gamba deve guarire va riabilitata hai ragione non è che denti fissi in 24 ore è una frattura in 24 ore con dei denti avvitati ma poi va riabilitata vanno cambiati i denti ci deve essere fatta una riabilitazione e quindi c'è il rischio che il paziente compra dei denti pensando di aver finito spendendo un sacco di soldi e poi dopo un anno la sorpresa che deve di nuovo spendere dei soldi tanti soldi per i denti definitivi come mi dicevi l'altra volta ci sono delle persone che fanno il tuo lavoro che pensano praticamente solo a se stessi senza pensare al bene di quello che può essere il cliente a differenza magari tua in cui tu ti prendi cura di quello che può essere il cliente proprio a 360 gradi delle sue esigenze ok il problema è questo andrà bene sicuramente questo tu fai un'analisi approfondita bisogna guardare alla foresta e non all'albero quando tu ti concentri sulla globalità e quindi risolvere la salute globale della bocca di un paziente prendi in considerazione la cura di tutti i problemi che sono in quella bocca anche dei problemi psicologici indirettamente del paziente perché comunque ricordiamoci che attaccati ai denti c'è una persona assolutamente e perdere tutti i denti specialmente anche per una donna è un po' come il trauma di perdere tutti i capelli quindi pensiamo quello che noi andiamo a fare con il lavoro quotidiano nostro andare a ricostruire completamente una bocca significa prendere in considerazione tutti i problemi e risolverli tutti quanti non metà non una parte anche se per legge non è vietato curare a metà un paziente io lo ritengo scorretto e per questo faccio dei piani di cura che sono completi che prevedono un inizio e una fine e ti danno anche una garanzia poi nel futuro di quello che hai speso e del trattamento che hai fatto che sia un trattamento fatto a regola d'arte e che abbia poi un supporto negli anni poi diciamo insomma che il sorriso è fondamentale in una persona non solo per quanto riguarda l'estetica ma anche come dicevi tu dal punto di vista psicologico perché se uno ha dei dolori mentre mangia mentre parla cioè comunque insomma sofferenza con i denti non è mica una cosa da scherzare sì ci sono diversi diversi motivi per cui una persona si cura i denti può essere per motivi di funzione che non riesce come hai detto te a masticare dolori oppure patologia ci sono delle problematiche delle malattie oppure possono esserci dei problemi appunto di di errori medici questo alla fine culmina sempre in una ristabilità nello ristabilire totalmente un equilibrio all'interno della bocca che tra l'altro è un equilibrio anche che si vede perché la bocca sta in mezzo al viso quindi non parliamo di problematiche che possono essere nascoste a parte il periodo che avevamo le mascherine però adesso diciamo la pacchia è finita tolte giù le mascherine chi ci aveva i problemi se non li ha risolti prima comunque sono rimasti il problema economico è quello che blocca le persone e questo problema economico io negli anni ho cercato di risolverlo con i policlinici che ho realizzato all'estero ma è stato fondamentale offrire un servizio che chiudesse tutte le terapie al paziente quindi li facesse tornare in Italia con la sensazione di essersi realmente curati a 360 gradi in maniera globale completa e definitiva questa domanda che ti sto per fare sicuramente interesserà da tutti a casa perché sto parlando di risparmio o meglio di spendere i soldi nel modo giusto e di non buttarli via e quindi ti chiedo come scegliere il dentista da qui andare e soprattutto spendere bene i soldi eh questa è una bella domanda allora spendere bene i soldi significa non dover rispendere altri soldi ok quindi non è il risparmio un indice di qualità sicuramente orientarsi verso una cura globale e risolutiva significa spendere bene i soldi in genere questo risparmio lo si ottiene quando ci si interfaccia con un professionista che fa solo quel tipo di terapie e i medici non sono tutti uguali come pure non sono tutti uguali gli avvocati oppure i notai si occupano di questioni diverse i vari professionisti quindi andare a ricercare il professionista che fa il caso proprio è già una buona strada da seguire in più quando si trova la persona giusta al medico giusto fare tutto quello che va fatto e non parzialmente non chiudere una buca e poi dare il tempo che se ne apra un'altra quindi questo è il vero risparmio fare delle cure che siano risolutive sicuramente poi l'estero in Moldavia e Romania certo i prezzi sono più bassi le tasse sono più basse parliamo dell'80% in meno di costi ma anche lì se non ci si orienta verso una cura globale e un centro specialistico si rischia di aver buttato 8.000 euro 7.000 euro invece di averne risparmiati 30-40.000 quindi la vostra soluzione tra sorriso perfetto e denti fissi è il dottor Palmas non venite in Moldavia brutte persone e dentisti vabbè sei anche nel bergamasco no? sì adesso abbiamo aperto anche una clinica la prima e unica in Italia perché a Bergamo ormai sappiamo che c'è un aeroporto che sta diventando enorme internazionale è possibile raggiungerci da tutta Europa e tutta Italia Bergamo è quella città in centro all'Europa che permette di dare poi il servizio dopo le cure a tutti i nostri pazienti oppure curare quei casi minori che sono i casi non candidati a andare all'estero grazie dottor Palmas per essere stato con noi ci rivediamo tra pochissimo e continuiamo a parlare di bellezza a tutti i nostri pazienti 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 Grazie.